Mi pare che in Lombardia non solo, ma in Lombardia abbiamo vinto quasi ovunque, centrodestra unito, è garanzia di successo, modello Lombardia, questa è la sintesi. Sono molto soddisfatto, mi sono già complimentato con molti sindaci e adesso al lavoro per tradurre in atti concreti questa decisione del popolo Lombardo di premiare il buon governo del centrodestra. Sarebbe una questione di stile che ti ha perso faccia mia colpa e pensi a dove ho sbagliato. Noi abbiamo vinto, io non ho attaccato, noi non attacchiamo Renzi, godiamo per la nostra vittoria.